Non c'è mai stato nessun impedimento di spesa da parte dell'UE. Una regione che non si occupa di 20 km di ferrovia a rischio non fa il suo mestiere. I ritardi sono inammissibili, è stato detto da alcuni funzionari di Bruxelles. A margine della settimana ufficiale dedicata alle regioni e alle città dell'Unione Europea, si è tornati a parlare della ferrotrambiaria. Corina Cretu, commissaria alle politiche regionali, risponde all'interrogazione dell'europarlamentare Tarantina Rosa D'Amato del Movimento 5 Stelle. La richiesta della regione Puglia di far slittare il progetto dalla programmazione 2007-2013 a quella 2014-2020 è stata accolta secondo i regolamenti. Cretu ha aggiunto che tale prassi è seguita ovunque in Europa, ma ha anche precisato che le ferrovie del nord barese hanno un carattere atipico e non sono incluse nella rete ferroviaria nazionale né sono soggette all'autorità nazionale preposta alla sicurezza delle ferrovie. Visto che la tratta Barletta-Corato non fa parte della rete transeuropea dei trasporti, né della rete nazionale, non vi è alcun obbligo di attuare il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. In sostanza, la ferrovia concessa non deve sottostare alle disposizioni europee in termini di controllo, comando e segnalamento, che si applica all'intero sistema ferroviario dell'Unione Europea. C'è però una direttiva, recepita dal Governo italiano, che obbliga all'ammodernamento di tutte le linee interconnesse con il sistema europeo, solo che l'elenco di queste opere, da modernizzare, non era ancora pronto al momento del disastro. Ed è comunque sempre una scelta politica chiedere lo slittamento del progetto nel settennato 2014-2020. Concretamente si può completare l'opera entro il 2025. Sta alla Regione Puglia, sostengono i tecnici di Bruxelles, rindividuare le priorità su cui alzare la voce rispetto agli ostacoli che spesso frappongono le comunità locali. Grazie.